buongiorno a tutti eccoci con questo nuovissimo video allora come avrete già letto dal titolo oggi vi mostro che cosa ho nel mio armadio per chi non lo sapesse diciamo che ormai si è da settembre che ho aggiunto un armadio grande alla mia camera ma effettivamente non ho mai mostrato come l'ho sistemato anche se poi sarà per poco perché poi a giugno io mi trasferirò comunque direi di iniziare subito a mostrarvi Mario questo è l'armadio bella ci sono dei giochi scatola queste due scatola qui ci sono lì delle cose delle unghie e qui delle cose della mia bambina tipo zaini coperte scarpe un po più grandi che mi hanno regalato io sto tenendo da parte poi ovviamente non può non mancare il calendario delle gorgeous ovviamente e poi ci ho messo tutti questi stickers così tanto per decorarlo un attimino e iniziamo da qua ok mi metto ecco così si vede meglio partiamo dalla in alto la in alto visto che non ci arriverò mai se non prendo la scala ho deciso di metterci cose cose che non mi sarebbero servite sempre o addirittura mai quindi ho messo tutte scatole di tablet telefoni e insomma che tanto comunque non servono e quindi ho deciso di metterle tutte là in alto poi qua ho messo questa borsa qui che uso quando vado da casa del mio compagno che ci metto le mie cose lì c'è brutalco del sapone di quando la mia bambina era piccola infatti il brutalco è praticamente finito quello è nuovo però è per l'igiene intima quindi va bene lo stesso questo è un coso che avevo fatto per fare dei poloncini per la festa della mia bambina quindi li tengo che possono sempre servire poi qua sotto c'è un po di roba allora lì ci sono una cartelletta verde e una rossa con tutti i denti e documenti magari anche visite ospedaliere eccetera eccetera poi ci sono dei palloncini avanzati delle borsette la borraccia e tutti medicinali vedete della mia bambina tachipirina questo è un lavoratore che aveva fatto quando sono andata in vacanza la mia bambina poi c'è il balsamo questo per le zanzare aiuto aiuto mi cade ok ciao il balsamo poi c'è la fissa un'altra crema un'altra crema ancora i cerotti cotton fiocca insomma diciamo che poi è reparto della mia bambina con tutti i suoi medicinali scusate ma stanno tagliando l'erba proprio adesso e ovviamente adesso che ho iniziato a fare il video comunque invece questo riparto qui sotto è praticamente mio come si possa capire effettivamente allora là in fondo che c'è quella pochettina rosa gialla e azzurra ci sono tutti i bijoux della mia bambina la ci sono due borsettine con i miei trucchi le mie station dietro ovviamente qui ci sono tutti i orecchini braccialetti tutte cose mie vedete praticamente lì ci sono i trucchi e lì c'è qualche collana o qualche cosa così più vecchia poi qua c'ho la mia scorta di assorbenti ovviamente sia questi che questi interni poi una scatola ce l'ho anche in borsa perché deve sempre esserci sa mai e ecco qui ci sono tutti i miei braccialetti collane orecchini forcine gli elasticini insomma praticamente per la maggior parte di tutte le cose che ho preso da shane lasciate dentro lì poi c'è la soluzione miscelare ecco vedete un deodorante e un uno stroccante viso e occhi e qua dietro ci sono anche i cerchietti della mia bambina e questa spazzola meravigliosa che sto adorando fondemente che è messa un po alla cacchio però non importa perché tanto sistemerò se avrò voglia invece qua sotto abbiamo un sacco di giochi ovviamente della mia bambina la dietro c'è la casa del primo mille lì c'è la lol quella grande il coso con i trucchi un sacco di pop it sacco di pop it il microfono che viene regalato qua è riparto diciamo slime qui ci sono tutte le barbie qui sono tutti i pupazzetti e queste qui non mi ricordo come l'inchiatimals che ce n'ha due o tre poi ci sono i cagnolini ce n'ha un paio due sì due ne ha non mi ricordo come si chiamano sono i buoni mi ricordo comunque quelli poi abbiamo shanghai questo il domino e dei giochi in carte questi qua poi sotto ancora c'è il lego un altro legoli dei giochi in scatola un puzzle il genga di forza 4 e per finire abbiamo il monopoli delle lol questo puzzle qui che è il maxi puzzle da colorare da un lato la bella borsa del computer e questi che sono dei libri da leggere di quando io ero piccolina che ovviamente tramandato e quindi da questa parte è completata adesso andiamo a vedere questa qui col doppio sportello vi dico vi chiedo scusa soprattutto perché ci sarà un caos per il semplice fatto che lo capirete perché vi dico così allora io partirei dal basso che è meno in disordine e poi saliamo dall'alto vabbè qui ci sono tutte le scarpe queste sono tutte le mia bambina contando che dietro c'è un'altra striscia e queste pochine sono le mie la mia bambina c'è solo pochini pochi scarpe proprio due paglia proprio poi abbiamo l'aereo della barbie la carrozza la casa l'ambulanza la macchinina il crea pennarelli di rime contro te qui tutte le decorazioni di natale nostre qua altre robe che non mi ricordo e saliamo un cicinin scusate per il disordine vi avviso qui abbiamo tutto il materiale scolastico di scorta aiuto che tengo purtroppo io metto sempre in ordine però c'è ragazzi non è possibile è una cosa che si disordina sempre non ho capito come funziona ma è sempre così poi qua dietro ho tutte le mascherine ffp2 che avevo preso su aliexpress qui altre ffp2 blu che mi hanno regalato e qui quelle chirurgiche di tutti i colori perché prima che arrivassero queste qui obbligatorie avevo preso un po di colori di quelle chirurgiche perché la mia bambina ne usa due al giorno quindi ho detto ciao faccio un po di scorta e vabbè gliele faccio usare ogni tanto comunque perché buttarle no e comunque sono rimaste sul gruppone fa niente qui c'è invece il diamond painting che ho fatto dei gattini devo incorniciarlo ancora e qui ci sono tutte le mie perline di lavoro dietro qui qua qui c'è i segnalibri che ho fatto i fazzoletti qui ci sono le colle altre colle gomme quaderni le pastelle insomma un sacco di di materiale e per ultimo quello più in disordine tutte queste mascherine qui me le ha portate la mia bambina da scuola che sono quelle chirurgiche adesso preferiscono le altre e ce l'ho sempre qua e quindi niente ce l'ho le tenengo qui ho tutti i nastrini poi c'ho vari materiali bastoncini e questi qua non mi ricordo come si chiamano i fermacampioni poi io tengo tutto c'è una curata di catigenica portaciucci poi dici sui stampi il film qua ci sono i gessetti colorati lì ci sono tutte perline tutte cose anche dietro le mascherine che non si vede lì ci sono i set di diamond painting con di diamond painting tutto qua dentro di diamond painting e quindi niente questo è l'altra parte dell'armadio e niente ragazzi questo è tutto ciò aspettate ok tutto ciò che c'ho nel quest'armadio nuovo fatemi sapere che cosa ne pensate scusate ancora per il disordine ma troppo davvero troppe mascherine non so più dove metterle e niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto ovviamente se è così lasciate tanti like iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e io come sempre vi mando un grosso bacio e un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao